Con 142.333 tonnellate di prodotti ortofrutticoli venduti, continua inesorabile la crescita di Orogel, il colosso cesenate dei surgelati, che nel 2017 ha fatturato 685 milioni di euro, pari a un più 8% sull'anno precedente. Presidente Piracini, numeri quindi positivi, come li possiamo commentare? L'anno 2017 è stato un anno tra i migliori, anzi il migliore in assoluto della tienda, sia in termini di volume di vendite, nel campo dei prodotti surgelati nostri, sia in termini di fatturato, ma anche in termini di risultati, di occupazione, quindi abbiamo tutti i dati in positivo. Come vanno i lavori nello stabilimento nuovo? Siamo in piena attività per l'ampliamento in corso, questo programma da 100 milioni di investimenti è in corso e terminerà nel prossimo anno, il programma triennale 17-19. Direi che i lavori stanno andando avanti bene, un po' più lenti di quanto avremmo avuto come desiderio, ma quello che abbiamo in corso sono lavori di grande tecnologia, di un'innovazione veramente eccezionale, per cui i tempi sono necessari perché quello che vedremo poi quando avremo tutto completato, non vedremo solo una cella frigorifera di grandi dimensioni e tecnologie, attrezzature, ma vedremo proprio una logistica intelligente che farà della nostra attività un'attività controllata in ogni punto e soprattutto in grado di essere di grande servizio alla distribuzione e quindi di potenziare ulteriormente i rapporti con la nostra clientela.